Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora oggi per Marvel Champions andiamo a fare la recensione di un prodotto molto ben dibattuto, molto, come dire, il cui feeling nella community è piuttosto controverso. Ha ragione anche mi viene da dire, adesso andremo un po' a capire perché, mi sto riferendo a The Galaxies Most Wanted, cioè i più ricercati della galassia, seconda espansione campagna per Marvel Champions dopo l'ascesa di Teschio Rosso che arrivò in un momento del gioco in cui, come dire, ci si aspettava qualcosa di innovativo, sia perché si passava fondamentalmente dagli Avengers ai Guardiani, quindi c'era un cambiamento di storia, di lore, di eroi e quindi anche villain che si andavano ad affrontare dopo, insomma, tutta la parte su Teschio Rosso, Taskmaster, dopo tutti gli eroi Avengers usciti di cui, tra l'altro, stiamo facendo le analisi e se volete, alla fine del video trovate poi tutta una serie di link a video in cui facciamo analisi delle carte. Beh, insomma, questa espansione è sicuramente un'espansione controversa e adesso andremo a capire perché. Non che sia in assoluto da buttare, ma probabilmente, almeno per la mia esperienza di gioco, i più ricercati della galassia risulta essere un po' un errore di design e adesso andiamo a vedere perché. Allora, di che cosa parleremo? Parleremo, come sempre, dei criminali, dei set degli incontri, della modalità campagna, alcune conclusioni in cui andremo un po' a parlare della difficoltà, della complessità, della novità nel momento in cui è uscito e così via. Io vi ricordo, se vi piace il canale, iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere, soprattutto unitevi alla community Discord di Dovera Gondor, dove sono in corso campagna comunitare anche a Marvel Champions, dove troverete una community super accogliente e interessata a partecipare. Ci sono rubricche sulle carte del giorno, domande e così via. Quindi insomma, unitevi perché ne vale davvero la pena. Allora, i cinque criminali sono la confraternita di Badun, il collezionista 1 e il collezionista 2, e Nebula e infine Ronan, l'accusatore. Allora, partiamo dal primo criminale, Drang. Io lo chiamo affettuosamente, non solo affettuosamente, Drang. In realtà si chiama Brotherhood of Badun. Diciamo che Drang è un criminale abbastanza standard. Ha un'abilità forse di andare a caricare questa Badun ship, che rappresenta un po' il bombardamento che la nave Badun va a fare sulla Terra. Tutto sommato, però, è un criminale abbastanza lineare, in cui, col suo set modulare, si va a riempire il board di Minion. Quindi è un criminale dove, se volete divertirvi con eroi come Thor, piuttosto che Valkyria, piuttosto che eroi che sono pesantemente basati sui Minion, potete farlo, perché in questo senso Drang funziona molto bene. Ecco, novità, insomma, di questa espansione, poi legata principalmente solo a questa espansione, in maniera così estensiva su tutti i criminali, è questo, diciamo, questi altissimi valori di aumento di segnalini minaccia sulla trama, che sono un po' un problema, in realtà, nel senso che costringe spesso, ne parleremo anche un po' più diffusamente tra poco, soprattutto per quello che riguarda il true solo, a spostarsi verso build, sicuramente al momento dell'uscita del gioco, ma anche un po' più in là, legata alla giustizia e o alla leadership. Perché? Perché con così tante minacce che salgono, pensate questa qui, no? Quella iniziale. Due parte da due, quindi ce ne sono solo sei, però salendo di due ogni turno, di fatto è come se fosse quattro, sostanzialmente, questo. E questo si sente, in tutti i gameplay si sente il fatto che le minacce, le trame sono strette, e bisogna molto spesso starci attenti, per esempio, se prendete la 2B, proteggere il pianeta, si parte da 4 e si arriva a 8, ma questo vuol dire che vi dà di fatto due soli turni, sostanzialmente, per poter intervenire e risolvere il problema della trama. Quindi, questo è un primo elemento che accomuna un po' tutte queste trame dei Most Wanted. Non è in assoluto un qualcosa di negativo, però costringe, perlomeno all'uscita del gioco, e poi anche più in là, a dover, insomma, essere sempre in grado di intervenire costantemente. Non che questo non sia previsto dal gioco, anzi, assolutamente lo è, però, come dire, queste trame con questo basso valore di soglia e alti valori di aumento ogni turno costringono ancora di più a spostarsi in quella direzione lì. Ci viene in vantaggio un set incontri che anticipiamo rispetto alla visione dei set incontri, perché è abbastanza fondamentale. Ce l'abbiamo, mi sembra, in ben 4 scenari su 5, o comunque, diciamo, 3 scenari e mezzo su 5, che è il set comando della nave, Ship Command. Come funziona questo set? Estrema sintesi, si aggiunge al mazzo incontri queste 6 carte che raccontano un po' questa storia di confronto, diciamo, spaziale, e al primo giocatore viene assegnata la Milano, quindi noi saremo a bordo della Milano, che è questo veicolo che si ha al setup ed è permanente, che può essere usato principalmente come risorsa, quindi saurisci la Milano, genera una risorsa wild per un qualsiasi giocatore, ma che in moltissime trame secondarie, non ultime quelle di Drang, ma anche nelle altre, può essere usata la Milano per esaurire e rimuovere tre minacce da questa trama. Ora, questo è un bel twist, un bel plot twist che viene aggiunto, sia da un punto di vista meccanico, perché la Milano, molto spesso, quando si gioca, può essere usata o come risorsa extra e magari dà una bella differenza, soprattutto perché è una risorsa wild e quindi vi sblocca la possibilità di usare quelle carte che hanno dei requisiti in termini di pugni, piuttosto che mente, piuttosto che energia, ma vi dà anche la scelta di utilizzare la Milano per, diciamo, la battaglia spaziale, no? Quindi in Drang abbiamo il blockade, il bombardment, l'oppressive armada, cioè tutto ciò che riguarda un po' l'aspetto, se vogliamo, legato alle battaglie spaziali, è gestito tramite questo set incontri della Milano e tra l'altro, essendo un set incontri modulare, in realtà, se voi volete inventarvi uno scontro spaziale contro Rino nello spazio, potete andarlo a fare, perché vi basta mescolare nel set, o meglio, nel mazzo incontri queste carte che, come dire, limitano fondamentalmente la Milano, no? Vedete la Cannonade, la Blindside che vi dice pericolo, quando rivelata o esaurisci la Milano, spendi risorse o stanni il primo giocatore, la breccia nello scaffo, quando rivelata o esaurisci la Milano, spendi due risorse o fai tre danni, e così via, no? Quindi, come dire, questo set incontri dà variabilità anche a scenari al di fuori dei Most Wanted, però è molto ben congeniale, a me piace molto, devo dire che su questo, sia meccanicamente con questa scelta ogni volta di usare risorse a usarlo sulle trame e in particolar modo c'è anche sulla trama principale, per cui avrete sempre questa scelta, perlomeno in Drang, e sia di poterlo unire ad altri set è qualcosa di carino, devo dire che questa cosa mi è piaciuta, tra l'altro, Drang aveva il suo bombardamento, Nebula aveva la sua nave, Ronan aveva la sua nave, quindi l'idea di battaglia spaziale c'è ed è resa discretamente bene. Drang non è un villain particolarmente difficile, non fosse per il tremendo passaggio dalla 2 alla 3, e qui cominciamo a avere i primi semi di qualcosa che ci pone un po', come dire, un segnalino d'allarme, perché il Drang dall'1 al 2 prende la lancia che indubbiamente gli busta le statistiche, dal 2 al 3 sostanzialmente quando è rivelata che cosa bisogna fare, oltre al fatto che si va a innescare la sua capacità di bombardamento sia quando trama che quando attacca, il che vuol dire che allo stadio 3 come normale in Marvel vogliamo starci il meno possibile perché Drang bombarderà due volte a turno e quindi continuerà a fare danni indiretti, il bombardamento fa danni indiretti, e il quando rivelata dice scarta le top 4 carte del mazzo incontri per ogni giocatore e ogni volta che un minion è scartato in questo gioco metti mettilo ingaggiato con il giocatore che è ingaggiato con minor minion. Ora, siccome è uno scenario molto basato sui minion, che cosa succede? Che quando sei in single player mediamente scartando 4 carte 1 o 2 minion si possono incontrare o non sono minion particolarmente forti ma capite bene che se vi dice male e ne scartate 2 o 3 beh, insomma, situazione diventa un po' più problematica per non parlare del multiplayer. Mi è capitato di giocare Drang in 4 giocatori e facilmente si possono, se sia sfortuna, andare a vedere 10 minion e capite che un passaggio dalla 2 alla 3 in cui si vanno a vedere 10 minion è tutto sommato abbastanza impegnativo. e questo è un po' un primo assaggio di questo concetto che ci porteremo un po' dietro in tutta questa espansione cioè dell'essere impegnativo a livello esperto e non solo perché poi il problema non è tanto legato a livello esperto quanto alla campagna ma adesso ci arriviamo. Comunque Drang è un villain solido mi piace ha uno spike in difficoltà a passare dal 2 al 3 che però è gestibile perché potete sfruttare mazzi che giocano tanto contro i minion perché potete portare Drang a passare di stadio quando state finendo il mazzo incontri e quindi mitigare il suo effetto perché potete fare scry insomma alla fine è una difficoltà verso l'alto che mi piace che mi piace perché rende diciamo il deck building importante e quindi di conseguenza mi piace altro scenario che mi piace sebbene ci muoviamo su un crinale un po' pericoloso è quello del collezionista ora come funziona il collezionista il collezionista di fatto è un villain dalle caratteristiche alte ma non eccessive e vi costringe a cambiare modo di giocare perché perché il collezionista ogni carta diciamo semplificando permanente quindi alleati upgrade nemici e così via che esce dal gioco va messa nella collezione che cos'è la collezione è quest'area al di fuori che può tenere cinque carte per giocatore perché nel momento in cui ha più carte per giocatore più di cinque carte per giocatore si perde istantaneamente quindi qui non si va a perdere soltanto perché il collezionista vi mena o trama e tra l'altro il collezionista tre ha uno schema di quattro non è poco è un attacco di tre ma il collezionista va un po' a giocare con tutte le sue carte di andarvi a mettere le vostre carte o le sue carte nella collezione ora peraltro il collezionista arriva con un set incontri che è Guazzabuglia nel Serraglio che poi ci arriveremo dopo che siccome è una roba senza senso come funziona cioè quali sono le mie pensieri su questo collezionista allora anche qui ci costringe a ripensare un po' il modo da giocare cioè se voi siete abituati a giocare a un mazzo che va tantissimo sui sui minion sui alleati che gioca tanti upgrade che poi magari li scarta penso al ready to rumble piuttosto che vari upgrade beh sappiate che non raggiungerete il turno 2 col collezionista perché di fatto ogni carta che voi portate fuori dal gioco eccezione fatta per gli eventi e qui è interessante perché alla fine del come dire del manualetto dice collector's ability for scenario 2 infiltrato nel museo dice quando una carta deve essere piazzata nella discarpata dal gioco quale carta si applica si applicano tutte le carte che entrano in gioco per le counter cart questi sono attachment ambienti minion obligation e side scheme per i player card questo comporta alleati supporti upgrade sostanzialmente gli eventi non entrano in gioco questo è un po' è un po' il messaggio quindi dovete cambiare approccio se giocate un mazzo molto spinto e pesantemente spinto sui minion sugli alleati non è un male in assoluto anzi anche il collezionista uno chiamiamolo collezionista uno cioè lo scenario infiltrarsi al museo ha un suo fascino perché ogni turno dovrete usare il vostro eroe delle risorse per togliere roba dalla collezione e avrete delle scelte che vi permettono di come dire avrete sempre quella scelta di necessariamente cercare di tenere la collezione più basso possibile prendervi il rischio se volete usare le azioni o le risorse per qualcos'altro e fin qui va bene ci siamo come o spendendo risorse o tappando il vostro eroe per cui per esempio eroi che hanno action ha avvantaggi nel tapparsi e stapparsi di continuo hanno un vantaggio giocare contro il collezionista più in generale anche per non dilungarmi tantissimo infiltrarsi nel museo è uno scenario bello a me piace può diventare molto difficile soprattutto se soprattutto perché più di una volta round per giocatore voi non potete rimuovere carte dalla collezione per cui se il collezionista in un turno vi butta giù due carte perché una ve la butta nella collezione l'altra sconfiggete un minion beh attenzione perché poi siete indietro pur tappando le eroe ne potete togliere solo una quindi le risorse sono limitate la coperta è stretta e siete di fronte a delle scelte come dire impegnative e ardue per capire che cosa effettivamente vale la collezione e come usare le vostre capacità le vostre risorse per togliere la roba dalla collezione sfortunatamente dico sfortunatamente mentre diciamo il set incontri artefatti galattici ha un suo fascino e poi vedremo perché il set incontri manager in medley cioè guazzabuglio nel serraglio è una roba pazzesca folle in particolare l'opzione ghost di cui ci sono quattro copie è una carta che io probabilmente è una delle carte che più odio in marvel champions prima di tutto perché è un minion che fa 2-2 e quindi già questo comunque ha il suo perché che quando è rivelata sei confuso è già questo dal suo fastidio ma soprattutto quando esce come boost si mette in gioco il minion ingaggiato con te quindi vi ritrovate un attacco di un criminale che vi attacca magari lo parate e poi vi ritrovate l'opzione ghost ingaggiato con voi e quando ce ne sono 4 nel mazzo incontri considerando che se lo fate fuori lo mandate nella collezione beh capite bene che questo può essere veramente tosto impegnativo per non parlare dello squalo spaziale cioè un minion che trama 1 attacca 3 a 7 punti ferita quick strike cioè buh sembra quasi che come dire abbiano detto ma si alziamo a non finire la difficoltà dei 7 incontri e divertiamoci così comunque l'infiltrarsi nel museo il collezionista 1 regge regge ancora come scenario nel senso che è uno scenario godibile gustabile e vi costringerà a fare diverse scelte se ci spostiamo verso il collezionista 2 che ha di fatto gli stessi 7 incontri è uno scenario ancora più sui generis perché? perché sostanzialmente voi non potrete mai sconfiggere il collezionista potrete girarlo dallo stadio 1 a 2 o B1 B2 e dobbiamo andare a vincere lo scenario come scappando dal museo come scappiamo dal museo dobbiamo andare a rimuovere tutta la minaccia dalle scene ok finché riusciamo a raggiungerla a Milano e poi scappare quindi anche questo scenario devo dire che è un po' particolare perché richiede necessariamente la capacità di intervenire tanto questo purtroppo è un dato di fatto è molto difficile in true solo approcciare questo scenario se non si ha una grande capacità di intervento poi lo scenario vi aiuta in due modi prima perché se voi fate fuori il collezionista il collezionista si flippa verso un lato con punti vita infinita ma delle caratteristiche più deboli e vi toglie minacce dalla trama principale e poi tramite il labirinto della libreria dove in qualsiasi momento potete darvi una carta in controcoperta e rimuovere 5 minacce dalla trama principale quindi vi da anche questo scenario degli strumenti per poter affrontare anche con una build non ottimale dicevo che è uno scenario sui generis perché è molto importante nella fuga dal museo la tempistica delle cose cioè bisogna riuscire a ottimizzare il passaggio cioè bisogna sfruttare tutte le carte che ci sono in particolare per esempio danneggiare il collezionista fino a tenerlo lì pronto ad essere sconfitto magari passare di stadio attaccare il collezionista per farsi abbassare la minaccia oppure prendersi la carta del labirinto per farsi abbassare la minaccia perché come anche come dire nel primo scenario di Drang vedete che in realtà l'aumento di minaccia è solo di uno per giocatore ma qui partiamo già a 7 su 11 oppure nello scenario 2 partiamo addirittura a 11 su 15 quindi nel senso la capacità il tempismo qua 8 su 12 addirittura nello scenario 3 la capacità di intervenire velocemente radicalmente continuativamente contro scappare dal museo è assolutamente fondamentale anche scappare dal museo è uno scenario a mio avviso molto bello e molto valido l'ho rigiocato anche recentemente in true solo e devo dire che bisogna proprio un po' cambiare l'approccio e questo è diciamo questo a mio avviso è molto positivo io vengo dal signore Nianel Lcg in cui il deck building è fondamentale e non mi spaventa in generale la difficoltà e devo dire che in generale questi scenari richiamano un po' questo modo di giocare cioè in cui si ha una difficoltà alta e mi va bene ma un approccio che se si riesce a seguire cioè se si trova la chiave di volta di come affrontare lo scenario poi lo scenario diventa effettivamente fattibile anche modalità esperto pur non essendo semplice perché stiamo parlando di scenari che fanno un bel salto in alto rispetto alla difficoltà di Teschio Rosso molto in alto come scenari singoli e poi parleremo anche della modalità campagna bene a questo punto direte bene bella allora questa espansione qui arrivano un po' quelle che sono le note dolenti ora i prossimi due scenari Nebula e Ronan non sono degli scenari come dire completamente da buttare però sono degli scenari che uniti a una modalità campagna a mio avviso rotta li rendono davvero al limite del frustrante probabilmente Nebula un po' meno Ronan sicuramente sono fresco di questi scenari perché ho voluto rigiocare a distanza di tempo proprio per rifare una recensione più così più corretta più dettagliata allora come funziona Nebula Nebula funziona che ha un numero di segnalini minacce che vanno sulle trame che sale ogni turno per via della Nebula ship cioè la sua nave ogni turno quando inizia mette su un'evasione rappresenta il fatto che Nebula scappi noi come sempre possiamo usare la Milano per scartare segnalini evasioni molto bello meccanicamente cioè tappiamo la Milano per inseguire Nebula la stiamo inseguendo ha in mano la Power Stone la vogliamo andare a prendere e quindi la inseguiamo il problema qual è è che questa cosa non solo tapparla a Milano e spendere due risorse di fatto vi dimezza quello che potete fare nel turno ma ci sono un sacco di carte incontro che fanno sì che Nebula cerchi di scappare scappare anche molto rapidamente il tutto unito al fatto che abbiamo un valore soglia di 6 partendo da 2 e un valore soglia di 9 partendo da 3 quindi è facile che se per un turno vi dimenticate tra virgolette la minaccia e prendete qualcosa che mette i segnalini illusione su Nebula beh allora la nave comincia a scappare via perché quando anche in tour solo si fanno mettere 3 o 4 segnalini minaccia sulla trama principale poi diventa davvero imprendibile in tutto ciò tra l'altro abbiamo il set di incontri che gioca contro la Milano quindi spesso dovrete tapparla e soprattutto avete questa pessima a mio avviso qui pastava veramente poco questa pessima limitazione per cui per inseguire la nave di Nebula voi dovete esaurire la Milano e spendere due risorse di qualsiasi tipo rimuove un'evasione counter da qui per ogni risorsa spesa se fosse stato spendi x risorse e rimuovi x segnalini secondo me sarebbe stato meno problematico anche perché poi il passaggio dall'1 al 2 è mostruoso perché prende più segnalini vi fa cose brutte nel momento in cui vi fa più segnalini e quindi c'è questo aspetto davvero difficile di dover gestire un po' l'inseguimento della nave di Nebula che in sé non è malvagio ma che si unisce che cosa? ha l'abilità di Nebula soprattutto a livello esperto perché a livello standard è meno per cui Nebula sostanzialmente va a fare spawn cioè va a spawnare tutte queste technique che sono le sue sui modi di giocare per cui che cosa succede? cosa sono queste technique? sono degli attachment che vanno su Nebula che vi danno un effetto negativo anzitutto per esempio Nebula non può prendere più di 5 danni da un attacco Nebula diventa stabile Nebula ottiene Retaliate 1 quindi sono effetti negativi hanno poi una parola chiave speciale che si attiva quando Nebula si attiva che cosa vuol dire? vuol dire che Nebula vi attacca ok vi attacca a 2 per esempio e quando vi attacca risolvi la special ability su ogni tecnica attachment in gioco quindi scarti qualcuno di quegli attachment diciamo che Nebula ha 3 attachment vi attacca e risolvete fate un danno diventate stannati mettete una minaccia sulla trama principale e togliete tutti quegli 3 attachment fin qui ci siamo va bene quando poi passiamo all'esperto cioè partiamo dallo scenario 2 lo scenario 2 dice il Nebula 2 dice quando Nebula fa un'attivazione contro di te risolvi l'abilità speciale su ogni tecnica e quindi ne scegli uno e scarti uno di quelli quindi già insomma lo spike in difficoltà cresce perché a questo punto noi non è che andiamo a rimuoverne 3 ne rimuoviamo 1 ok quando poi andiamo allo stadio 3 che ha ben 20 punti vita non ne parliamo perché puoi sceglierne uno di quelli fatti e a patto che tu rimuovi dal gioco dal top card del tuo mazzo scusate la top card del tuo mazzo dal gioco per togliere uno di quegli attachment è vero che allo stadio 3 ci si sta poco per carità però è molto gravosa questa cosa nel senso che il tutto tra l'altro è assolutamente come dire ancora più spinto verso verso la difficoltà dal fatto che tutti e i tre tutti i tre nebula ti dicono che il primo technique attachment rivelato ogni round guadagna surge la cosa tra l'altro brutta è che il nebula 1 dice la prima technique attachment rivelato ogni round guadagna surge quindi impulso la nebula 2 dice che la prima technique attachment che ogni giocatore rivela ogni turno guadagna surge quindi capiamo bene che ci troviamo di fronte a un villain che ha la sua capacità di evasione della nebula ship che è meccanicamente interessante carina ma che è difficile starci dietro che cresce radicalmente la difficoltà passando dallo standard dall'esperto e che in più è pieno zeppo di surge completamente pieno zeppo di surge e tra l'altro le sue carte oltre nel senso tutto il set di incontri di nebula praticamente fa surge perché anche la trama principale lethal intent che entra in gioco come side scheme ti dice quando rivelata scarta carte dal top del mazzo incontri finché non è scartato una technique rivela quella carta quindi voi rivelate questa lethal intent scartate carte magari scartate due o tre carte millate il mazzo che non è mai positivo rivelate una carta tecnica siccome rivelata quella carta guadagna surge per cui mi è capitato in true solo dove riveli una carta e poi va a finire che te ne trovi tre tra una roba e l'altra una tecnica un'altra carta magari un'altra carta che fa surge per esempio un'altra carta che odio profondamente di questo set è il bar roll il bar roll è una treceri che fa incitazione uno va bene surge quando rivelata piazza un evasion counter sulla nebola ship cioè vi beccate una minaccia e un segnalino evasione gratis sulla nebola più a surge capace veramente che nebola snowball in maniera incredibile cioè partite che vi sembrano in controllo con nebola vi basta pochissimo per farli snowballare è un male in assoluto? no però io devo dire la verità a me non piace la meccanica per cui la difficoltà è resa tramite i surge io sono principalmente un giocatore true solo e giocare quando un mazzo incontri ti rivela una carta e diventano quattro perché hai il surge è davvero estremamente frustrante oltre che molto difficile ma non di quella complessità che dici beh la sistemo deck buildando come sistemi quattro carte in un turno cioè non ce la si può fare è il motivo per cui per esempio a me non piacciono neanche i set standard due esperto due perché ci sono troppi surge non condivido questo approccio per cui per aumentare la difficoltà bisogna dare più carte cioè siccome la difficoltà deve aumentare con una meccanica non perché ho più carte che a un certo punto grazie nebula ha quattro technique ha le trame ha sei segnalini sulla nebula ship come riusciamo a prenderla insomma quindi anche il combat ready come treceri scarta carte dal mazzo di incontri fin tanto che una technique non è scartata rivela quella carta quindi risolvi la sua abilità speciale per cui scarti questa riveli la carta a surge ti stanna cioè succedono tutta una serie di robe che sì ok mi va bene però siamo un po' un po' troppo anche qui tra l'altro il suo set incontri quello dei pirati è un altro set che parliamo e tra poco ne parliamo mi sto dilungando ma davvero ho cuore a questa espansione e mi spiace non riuscire a dargli di più di quello che sto raccontando perché pur essendo fresco ne vedo veramente dei limiti limite che come dire secondo me raggiunge il suo massimo dove in Ronan l'accusatore ora Ronan l'accusatore è un boss ignorante ignorante perché di fatto lui ha dentro un set incontri fortissimo una roba folle che è capace di spawnarvi minion che hanno 6, 7, 8 punti vita patrol guardia retagliate e quindi vabbè ok in più lui principalmente mena cioè nel senso che è robusto retagliate nella sua versione 3 e mena cioè ottiene un sacco di carte un sacco di surge un sacco di attacchi cioè non ha grande altra modo con cui possiamo definire Ronan no? si ha questi carini side quest che no? manovra tenaglia piuttosto che tattiche superiori cioè che vi danno l'idea di poter affrontare lo scontro contro Ronan nello spazio però poi ha tutta questa serie di carte in cui quando rivelata Ronan attacca il giocatore che controlla la power stone anche se è in alter ego se nessun attacco è stato fatto in questo modo questa carta guadagna surge se hai accusato tre carte Ronan ti attacca con un più uno quest'altra qui che è quella questa qua la fanaticism condizione surge attacca lo Ronan l'accusatore usa un fury counter più uno addizionale per ogni giocatore e da più uno quando Ronan ti attacca questo attacco guadagna overkill e piercing alla fine dell'attacco rimuovi un fury counter da qui quindi Ronan fa questo cioè mena come un fabbro tra l'altro il setup di Ronan adesso arriveremo a parlare in campagna è già abbastanza difficile perché quando come dire quando parti hai questo crea command ship che di fatto vi dà un più una carta è un'icona di più una carta però la meccanica e questo è simpatico per questo è che mi fa rosicare questa espansione perché ci sono delle cose interessanti sicuramente anche più interessanti di altre espansioni abbiamo questa interruzione del first player che dice quando una treasure card è rivelata all'ammazzo di incontro esaurisci la Milano e spendi una risorsa di qualsiasi tipo cancella questa carta quindi anche qui c'è la command ship avete la Milano esaurite la Milano e evitate questa carta l'ombra del passato la cancellate bello fico il problema qual è? che il setup di Ronan sia nella sua versione esperto che per non parliamo nella sua versione campagna è tosto cioè vi costringe subito a partire con più trame con la Milano che dovete decidere dove usarla piuttosto che non riuscite quasi mai a gestire una carta per turno perché Ronan ve ne butta sempre due o tre no? il set incontri adesso ci arriviamo è folle un po' come tutti i set incontri di questo di questo di questa espansione ma il vero problema di Ronan rimane il fatto che avete troppe carte e parte con un setup troppo difficile sia se vogliamo a partire da livello standard ma comunque ancora gestibile non parliamo del livello esperto e non parliamo del livello campagna quindi purtroppo io sono un po' critico su Ronan perché ha tutto di sbagliato cioè ha delle belle idee ma poi ha i segnalini che salgono di due ogni turno surge su surge continui delle statistiche micidiali dei punti ferita altissimi un setup con l'universal weapon già assolutamente fuori da ogni logica il fanatismo che con surge praticamente blocca la strategia del cimbo blocca anche perché Ronan picchia botte di 6 7 8 quindi cioè non è che si costruite l'eroe protezione va bene ma prima di costruire un'eroe protezione anche con la difesa perfetta comunque attaccherà difenderà 4,5,6,7,8 non è che può gestire due o tre attacchi a 6,7,8 ogni turno quindi peccato ma Ronan a mio avviso rimane un villain troppo troppo mi spiace dirlo fatto male e non capisco come possa aver superato le fasi di test un villain così ma non siamo ancora le note dolenti non siamo ancora le note dolenti però poi vi proponerò un'alternativa passiamo ai set modulari e poi alla parte campagna allora i set modulari sono difficili come abbiamo già detto sono molto caratteristici per esempio questo band of badun è pieno di minion cioè completamente pieno di minion alcuni sono veramente ostici come il badun grunt che praticamente ve lo ritroverete sempre se come carta boost ve lo ritrovate ingaggiato se vi ingaggia vi da un'altra carta quindi vi da insomma vi da proprio fastidio il badun assassin che quando arriva vi fa dei danni però generalmente a parte il lieutenant sono tutti i minion a bassa vita e quelli ad alta vita come per esempio il badun sentry non danno un grandissimo fastidio cioè ve lo tenete ingaggiato e buonanotte il warlord può essere difficile ma 4 è un valore abbastanza gestibile il badun gruntano 2 il badun assassin solo il lieutenant come mini boss da un po' fastidio ma va bene cioè nel senso in questo senso ci sta come concetto per cui è un set che quando volete divertirvi mettendo tanti minion contro un villain va benissimo mettere la banda di badun gli artefatti galattici sono un set innovativo nel momento in cui sono usciti perché sostanzialmente sono come dire vi danno fastidio e fastidio ve ne danno ok penso a questo Vandarian Power Wand che l'attacchi al nemico che ha il basso schema azione eroe spendi 3 risorse fulmine e scarti questa carta attaccalo alla tua identità il personaggio prende meno 1 tutte le statistiche quindi hanno quell'approccio che a me piace cioè dell'attenzione che questo set incontri ti sta colpendo in un certo modo cioè ti butta una minaccia che non è una minaccia immediata non ti ammazza per danni non ti fa un altro attacco però sappi che ti dà fastidio che sia perché ti dà più attacco che sia perché ti dà più difesa che sia perché al minion che sia perché ti butta fuori queste strane tesori galattici che sono trame secondarie e quando le esplori ne hai un un vantaggio diciamo che dal mio punto di vista questo è un bel set incontri può essere frustrante a volte perché se poi vi beccate il villain che ha più 3 di attacco e non avete i 3 pugno diventa davvero difficile riuscire a a gestirlo però in generale è un set incontri che tutto sommato è ben fatto tematico e aggiunge qualcosa di nuovo passiamo a guazzabuglio nel serraglio invece è un set che odio nella maniera più assoluta è un set di soli minion di 9 minion in cui abbiamo dentro il servant pot che vabbè fastidioso fino a un certo punto perché guardia patrol 113 ok poi abbiamo dentro questi pazzeschi fantasmi psionici veramente questi provare per credere che danno un fastidio queste carte ma clamoroso clamoroso questa cosa che te lo metti in gioco ingaggiato con te come effetto boost oppure che ti confonde quando lo rivela davvero tosto teniamo presente che tra l'altro se entro in gioco con l'effetto boost non sono rivelati e quindi non sei confuso poco male questi danno un fastidio omicidiale poi abbiamo lo starshark lo squalo spaziale che ditemi voi se può essere se non è un un villain praticamente questo attacco 3 7 di 7 di vita quick strike e perché non mi piacciono questi perché non dico che uno deve avere la scelta di lasciare il minion però cioè lo squalo spaziale o lo pescate nell'ultimo turno oppure dovrete farlo fuori perché non potrete avere un minion ingaggiato che attacca 3 che ha 7 punti vita che dici sì vabbè prima o poi prenderò un ping e un dannino da qualche parte e quindi in qualche modo lo farò fuori e quindi questo set diventa un po' un po' fastidioso certo mi vengono in mente delle carte molto interessanti del set degli X-Men cioè con le carte che si attaccano ai minion e gli danno meno 2 all'attacco che potrebbero rendere questi questi set sicuramente un po' più abbordabili da affrontare ecco quello diventerebbe interessante giocare in un altro modo cioè andare in qualche modo a intrappolare questi minion altro set che è tosto è lo Space Pirates non è diciamo difficilissimo se vogliamo però dà fastidio perché quando ti attacca va a rimuovere tutti quando ti attaccano e hanno tutti Quick Strike tendenzialmente quindi entrano in gioco i danni e te li becchi quando ti fa danni rimuovi la top card del tuo mazzo va bene è un set che ha senso perché sono pirati e quindi ti portano via la top card del mazzo anche questo è fastidioso soprattutto con Nebola dove già come dire vi prendete un sacco di effetti avere un set in contro che ha Quick Strike vuol dire che voi avete già fatto la fatica di difendere comunque l'attacco da Nebula magari siete riusciti a sopravvivere anche beccandovi danni stannati e così via vi ingaggia un minion che vi attacca subito e vi rimuove anche la carta abbastanza impegnativo ci spostiamo poi verso l'ultimo set in contro no il penultimo che è il Cree Militants che vabbè è un set assolutamente pazzesco cioè vedete il Cree Commando 6 punti vita Patrol il Cree Lieutenant 7 punti vita 2-1 Guardia Stalwart e poi guardate gli effetti boost cioè se questa attivazione è un attacco questa carta prende più 3 boost icon poi abbiamo il Cree Private il soldato Cree Quick Strike 1-1 il Cree Combat Armor attaccala un nemico con l'attacco più alto riduci l'ammontare di danni attaccati al personaggio per questo attacco di 1 azione eroe spendi 3 risorse dello stesso tipo scarta questa carta il problema di questo è che oltre a essere grossi cioè avere tanti punti vita e quindi diventa difficili sono all'interno di Ronan dove è facile che Ronan vi attacca poi vi attacca un'altra volta poi sputa fuori un Cree Command poi c'è un Surge che viene da qualche parte e viene fuori un Cree Lieutenant partita finita perché nel momento in cui al turno 1 al turno 2 vi trovate contro un Cree Command e un Cree Lieutenant anche che uno dice vabbè lievito ci gioco intorno e tutto ma sono un sacco di danni cioè già ne dovete fare 40 45 a Ronan se avete al turno 2 il Cree Command e il Cree Lieutenant e dovete farne anche 13 ai Minion e non potete intervenire non potete attaccare il Villain e tutto diventa abbastanza difficile quindi i sette incontri del mio visito sono abbastanza complessi c'è anche il sette incontri di una carta che è la Power Stone che va attaccata al Villain come setup è permanente dà più uno al schema e all'intervento più uno all'attacco c'è una risposta obbligata dopo che un eroe o il Villain fa più di 3 danni al personaggio con questa aggiunta della Power Stone praticamente attacchi la Power Stone all'eroe o al Villain attaccante anche qui è carina la meccanica perché di fatto via la Rulina andate a rubare è un sette incontri che c'è negli ultimi due scenari era secondo me un po' una prova generale del set del Guanto dell'Infinito però è carino è un set cioè ci si gioca intorno perché comunque avere il boost permanente alle statistiche è buono e cercherete di ottimizzare facendo i danni almeno 3 ed evitando di prendere 3 danni passiamoci nell'ultima parte sto già portando via tempo ma ci tenevo perché è un'espansione che mi sta a cuore pur essendo dolce e amara e pur facendomi rosicare da matti allora questa è una campagna che più performate bene negli scenari e più guadagnate punti vittoria i punti vittoria vi permettono di comprare delle carte carte che in qualche modo rendono la vostra campagna abbastanza unica in base alla direzione che prendete e sicuramente modulabile e personalizzabile potete comprare delle modifiche per la Milano delle carte che vi aiutano a fare certe cose più sono forti più sono costose questa cosa funziona a me piace nel senso che l'idea che possiate comprare al mercato le modifiche per la Milano come il target screen piuttosto che il laser montato e così via mi piace molto è un po' anonimo perché nel senso cosa vuol dire che comprate il triple threat piuttosto che alcune cose non hanno molto senso se vogliamo logico però funziona cioè è un anziché come in teschio rosso penso dove man mano che andate avanti vi prendete gli upgrade qui li scegliete voi si possono dare luogo a combo abbastanza sbroccate mi piace questa cosa mi piace anche qui c'è un po' di come dire pareri controversi nella community sull'utilità del mercato ma trovo sia molto carina soprattutto molto personalizzabile per cose fan made sapete che a me piace sempre fare questo così questa considerazione sugli scenari fan made è molto carino perché se poi per esempio io noi spesso abbiamo giocato così quando facevi fuori dei minion unici magari forti prendevi dei punti vittoria con i punti vittoria potevi migliorarti per un scenario successivo quindi devo dire che al di là del fatto che potresti avere l'armor plating senza avere la milano perché può esserci questo concetto però non mi dispiace in assoluto vediamo ora il problema della campagna e arriviamo al punto dolente ora ogni scenario vi mette in gioco questa challenge cioè vi dice voi fate il setup e poi mettete in gioco qualcuna di queste challenge che vi da diciamo una modalità extra per fare punti vittoria fin qui va bene ok il Badoon Blitz vi dice ha 5 segnalini minaccia vittoria 1 quando sconfitta ogni giocatore perde una carta cioè guadagna una carta cioè se voi riuscite a superare questa side scheme ne avete un vantaggio nel corso della campagna mi piace il tutto poi diventa un po' più complicato perché man mano il vantaggio diventa svantaggio e soprattutto i punti da esplorare in termini di segnalini minaccia cominciano a crescere in maniera secondo me a mio avviso ingiustificata cioè nel setup di Ronan che già è un setup con il martello con la carta incontro extra con così via a livello standard sto dicendo voi partite con 9 ora 9 su una carta minaccia che vi da una carta in più e stiamo parlando della modalità standard e capite bene di che cosa stiamo parlando cioè nel senso fate provate a mettere il setup di Ronan in modalità campagna e capite bene che dopo che 7-10 minuti che fate il setup e mettete questa trama secondaria la trama minaccia la boost icon e sei accusato e l'arma universale e il cry supremacy dite sì vabbè ho capito e io come faccio in un turno a superare questa roba ecco questo è il primo problema tant'è che la fantasy flight si è accorta di questa cappellata e ha come dire aggiunto nel nel setup di Ronan questa piccola parolina che c'è scritto optional perché nelle istruzioni della campagna dice optional rivela la cry supremacy side scheme usa il reverse side per expert mode quindi si è accorta e dice forse questa effettivamente è un po' troppa le altre mi va bene le altre ci sono funzionano mi importa poco che per nebula devo toglierne 8 magari non ce la farò mai però intanto non mi dà grossi svantaggi se non fino a quando l'ho superata ma la supremazia kree no perché già Ronan prende una carta in più per la sua cosa cioè capite bene che poi il trusolo diventa una roba assolutamente senza senso cosa che purtroppo è no ma tenetevi forte perché il problema è che sono quelle standard addirittura quelle expert guardate qui cioè guardate guardate questa su Ronan e ditemi come può essere possibile che dopo il setup esperto di Ronan che quindi ha trame secondarie arma universale tutto ciò che abbiamo visto abbiamo una trama che in trusolo ha 11 che vi dà più un'accelerazione più con il potenziamento più un icon hazard e ha 11 di trame non è non è possibile non ha alcun senso e guardate anche le altre cioè davvero rende gli scenari non ingiocabili poiché sono difficili ma ingiocabili perché partendo dall'inizio soprattutto Nebula e Ronan vi ritrovate talmente tanta roba e l'impossibilità di togliere queste cose che come dire vi fa passare purtroppo la voglia non mi dilungo su questo anche perché il video sta già andando lungo ma guardatele e capite bene che ha poco senso tant'è che spesso un suggerimento è quello di usare comunque le standard challenge anche in modalità esperto perché perché vi permette di come dire migliorare se volete la vostra campagna a un costo che comunque è abbordabile non ha dei costi come questi che sono assolutamente insensati in più in più la campagna Badun e Dante cioè c'è un set incontri in più che è il Badun e Dante che è un set incontri che può essere giocato normalmente che è un set incontri micidiale perché a parte che è pieno di surge guardate questo è Dante Enchman è un surge e ha 8 punti ferita 1, 2 patrol surge così pronti via vuol dire che se la pescate questo vi ritrovate un nemico che vi attacca costantemente con antipunti vita e così via il Badun e Dante è Villainous quindi è criminoso per cui a 7 punti vita vi attacca e così via e come funziona la campagna iniziate col Badun e col cacciatore di taglie che è dentro nel mazzo e vi insegue questo è carino di nuovo mi fa rosicare perché le idee sono carine però più lo fate fuori nel corso della campagna e più andate a riempirvi il mazzo di queste carte e purtroppo qui non conviene farlo cioè è vero che questo è due victory e vi fa andare nel mercato ma queste carte sono troppo faticose questo on the hunt che è surge e scegli se prendere due damage o scartare una carta random ed è surge è una roba che è in solo ti massacra ti massacra perché perché unita a una campagna in cui tanti surge in cui ci sono tanti surge questa cosa ti va a massacrare non solo attenzione e poi concludiamo sulla parte di campagna e voliamo verso le conclusioni anche i setup della campagna esperta sono fuori logica cioè questo riquadratino grigio che la campagna esperta vi dice tenete presente dei danni che avete e portatevi alla prossima partita e mi piace poi vi fa fare un setup extra in cui per esempio per nebula come se non ci fosse bisogno scarta finché non trovi una tecnica per scappare alla museo scarta finché non trovi un attachment in ronan non parliamone di ronan in ronan vi dice piazza una minaccia addizionale vabbè se avete perso questa partita rohan rohan si deformazione professionale ronan vince la la partita nel nell'infiltrare del museo partita a livello esperto avete già siccome quando è rivelata una carta nella collezione e in più dovete andare a metterne un'altra come per il setup campagna quindi cioè io dico ma che cosa hanno pensato i developers quando hanno costruito questi livelli ma l'hanno veramente testato perché non solo quando uscì era qualcosa di impossibile io ricordo che vinsi la campagna intuente standard con rocket group giustizia leadership dopo n prove a ronan dopo che avevo riniziato la campagna facendo tutte le scelte in funzione di ronan cioè partendo da badun non facendo fuori gli head hunter andando a prendermi tutte quelle carte che potevano solo servire con ronan quindi il taff quindi il cancella la carta e così via ora va bene ok ci può stare però la campagna deve essere giocabile anche in true solo altrimenti non scrivi sulla scatola 1-4 perché se no altrimenti metti 2-4 siamo tutti più felici quindi la somma di difficoltà dei criminali difficoltà delle expert standard challenge difficoltà della campagna che fa scelte tra l'altro no sense cioè se voi rubate la gemma nebula ok se voi rubate la gemma nebula poi ronan vi fa partire con una carta sei accusato faccia in giù che vuol dire un altro attacco più uno gratis come se già non ce ne fosse bisogno quindi voi dovete giocare in modo tale di vincere ma lasciando la gemma nebula che allora boh ma ha senso questa cosa cioè devo cercare di vincere facendo il peggio possibile per arrivare al criminale finale essendomi buildato pur facendo il peggio possibile nel miglior modo possibile con un set up impossibile cioè scusate giro di parole ma davvero mi sembra eccessivo eccessivo e infatti avrete capito un po' qual è il mio pensiero generale e finale sulla modalità campagna prima di recappare anche se mi sono dilungato molto voglio aggiungere una cosa nella campagna custom Epson campaign volume 1 di cui vi lascio poi il link della prima partita alla fine c'è un bellissimo primo scenario contro Ronan bellissimo in cui giocate con un personaggio gli date il tratto guardiano date la power store a Ronan date l'onorario guardiano al vostro eroe cercate per un alleato guardiano ve lo mettete in gioco cercate nella collezione un upgrade per la Milano dal costo 4 o meno cercate nella collezione per un upgrade da costo 6 e vi prendete in mano un identity specific card per partire col set up e nella modalità campagna piazzate un atleta addizionale ora abbiamo dentro Ronan la sedia del destino la sedia oscillante quella con Modoc il power store la ship command e lo standard è uno scenario bellissimo perché? perché il set up è tale per cui ve la potete giocare quindi se arrivate a Ronan in modalità campagna prima ci sbattete la faccia il mio suggerimento prima sbatteteci la faccia poi andate a giocarlo in modo che sia divertente come questa è una proposta oppure andate a giocarlo al di fuori della campagna ecco il suggerimento che io do per affrontare la campagna dei guardiani della galassia è noi non giocarle in modalità campagna o giocate con delle house rules oppure non giocate in modalità campagna perché perché secondo me viene rovinata questa l'esperienza di gioco viene rovinata dalla modalità campagna perché Ronan e Nebula sono già difficili a livello standard molto difficile e complessa a livello esperto al limite della frustrazione se ci aggiungete la modalità campagna diventano non divertenti e questo è a mio avviso il grosso problema di questa espansione quindi andiamo a concludere allora soliti punti no? materiali rigiocabilità difficoltà complessità innovazione set modulari materiali ce ne sono vabbè evidentemente molto riutilizzabili soprattutto le carte mercato la rigiocabilità è buona eviterei gli ultimi due scenari per i motivi che abbiamo detto il primo è uno scenario abbastanza standard il secondo il terzo sono scenari un po' particolari che rigiocherei volentieri perché ti costringono a fare delle scelte la complessità stacca ovviamente da teschio rosso soprattutto per alcuni scenari come scappare dal museo infiltrarsi nel museo che sono scenari non standard evidentemente soprattutto scappare dal museo dove non si vince sconfiggendo il criminale quindi questo è un aspetto simpatico una nuova modalità di vittoria se vogliamo quella di fuggire anche se poi vi costringe sempre un po' a dover usare la giustizia perché dovete intervenire tanto però nel complesso è un elemento positivo sicuramente l'innovazione di questa box è evidente c'è proprio un salto che non credo che poi ci sarà successivamente perché poi si andrà a Thanos poi si andrà alle sinistre intenzioni ma diciamo l'approccio innovativo di questa campagna secondo me è crea un prima e dopo come detto all'inizio di questa di questa recensione e la difficoltà è altissima data soprattutto dalla modalità campagna ed è un po' un peccato perché la modalità campagna non dico che debba rendere più facile anzi deve rendere con più scelte cioè deve dare più possibilità uno gioca la campagna perché vuole narrare una storia vuole avere più scelte rispetto a giocare i villain stand alone ecco purtroppo in questo senso questo prodotto interpretando cioè non interpretando ma eseguendo le regole alla lettera purtroppo a mio avviso fallisce io sono purtroppo un detrattore della modalità campagna dei guardiani della galassia perché pur avendola giocata tanto e anche recentemente anche con un pool espanso alla fine la ritengo più frustrante che divertente piuttosto giocate i villain singoli che allora hanno i loro difetti soprattutto nebula e ronan ma perlomeno non hanno un setup che risulta essere impossibile bene è stata una recensione lunga su un prodotto che da un lato mi sta a cuore e dall'altro odio cioè odio e amo questo prodotto e ciclicamente ci ritorno ogni volta che trovo un eroe che mi piace ciclicamente ci ritorno e devo dire che purtroppo nonostante mi diverta fino al terzo e forse a volte anche il quarto scenario quando arrivo a ronan mi metto le mani nei capelli però però concludo devo dire che ronan dell'evson campaign quindi con questo setup che vi invito di provare è davvero divertente quindi in sé va a unire come dire degli aspetti meccanici di ronan che funzionano e più in generale degli aspetti della campagna che funzionano come dire la milano come funziona molto bene l'infiltrarsi in museo i set ambientati nello spazio e così via funzionano molto bene in questo scenario sono uniti e devo dire che danno una bella soddisfazione il vantaggio di marvel è proprio questo che alla fine c'è molta modularità per cui mettete ronan senza setup della campagna con un set di incontri più semplice provate vedrete che alla fine la partita ci sta cioè comunque un picchiatore uno che rivelerà tante carte ma perlomeno riuscirà ad essere affrontato e giocato bene io spero che questo lungo video del quale mi scuso ma insomma ripetisco ci tenevo vi sia piaciuto come sempre io vi ringrazio vi ricordo se vi piace il canale iscrivetevi che è un modo semplice per farlo crescere soprattutto visitate il server discord di dovera gondor grazie ciao alla prossima